E' stata presentata a Milano una nuova app per pazienti con tumore al polmone in terapia orale, per far sì che il dialogo con il proprio oncologo non venga mai meno, migliorando così la qualità di vita e l'aderenza terapeutica. L'app si chiama EPM ed è stata sviluppata dalla DOT con il sostegno di Roche e diventa uno strumento in più nelle mani del medico e un'opportunità importante per tutti i pazienti. Oggi, grazie ai nuovi farmaci biologici, la lotta contro il tumore al polmone può essere affrontata con maggiore possibilità di controllo di malattia nel tempo, soprattutto per alcune forme legate a specifiche mutazioni genetiche. Ma l'importanza della relazione medico-paziente resta prioritaria per gestire effetti collaterali, dubbi e paure che possono far sentire solo chi combatte contro un tumore. Ma quale scenario in evoluzione si apre oggi per combattere il tumore al polmone? In realtà è un mondo in evoluzione a tutto vantaggio dei pazienti. Abbiamo la possibilità di studiare meglio la loro malattia tumorale e di identificare una tipologia di malattia molto più curabile, con una qualità di vita molto migliore. Quindi un aumento sia quantitativo che qualitativo della loro vita quotidiana. Su questo, e per cercare di limitare anche gli effetti collaterali di queste terapie orali, domiciliari, molto facili da prendere, ma che hanno dei versanti comunque che nel tempo sono usciti fuori in maniera forte e che possono incidere dal punto di vista psicologico sulla qualità di vita del malato, questo discorso della app di identificare uno strumento facile attraverso uno smartphone, un collegamento, in qualsiasi momento fra il malato nel suo domicilio, a volte anche lontano dal centro che lo cura, è erogatore della terapia, ed il medico per un contatto anche visivo di materiale che può essere spedito, penso che sicuramente potrà promuovere quella relazione, quell'umanizzazione delle cure di cui si parla sempre tanto, ma che poi è difficile concretizzare in atti pratici. E credo anche in qualche modo possa migliorare l'aderenza terapeutica, perché un paziente che si sente rassicurato anche nelle piccole problematiche può poi aderire meglio a quello che è il suo percorso di cura? È giustissimo, l'aderenza terapeutica in terapie che agiscono, possono agire negativamente sul sistema intestinale, vedi diarrea, sul sistema cutaneo, vedi acne a vari livelli, è chiaro che preoccupano il malato, nulla a che vedere con le tossicità della chemioterapia, ma preoccupano il malato anche perché sono evidenti. Quindi è chiaro che una delle prime azioni potrebbe essere quella di ridurre il trattamento, di sospendere il trattamento, il che è anche possibile che possa essere attuato, ma deve essere attuato dal medico in una situazione ragionata. Questo strumento permetterà appunto di continuare il trattamento su dei livelli di adeguatezza maggiori. Lo sviluppo di una piattaforma web e di un'app è una delle tante testimonianze di come la tecnologia oggi sia di supporto alla medicina, permettendo di abbattere la distanza fisica fra i medici e i pazienti che a volte vivono anche a centinaia di chilometri di distanza dal centro oncologico. Ma come è nato il progetto IPM, acronimo di Improving Patient Management, e come sarà concretamente usata l'app dai pazienti? Questa app nasce in realtà praticamente due anni e mezzo fa e l'obiettivo è sempre stato quello di riuscire a creare un sistema, una piattaforma che mettesse in comunicazione diretta e bidirezionale il paziente con il suo medico oncologo. Lo sappiamo ovviamente, stiamo parlando in questo caso di tumore del polmone, i pazienti si trovano ovviamente in una situazione sicuramente non semplice e quindi la necessità del paziente di mettersi in contatto col medico è fondamentale. Il secondo approccio è stato quello proprio di riuscire a migliorare anche dal punto di vista gestionale il tempo anche del medico e quindi la domanda era proprio come fare e IPM è stata la risposta perché andiamo a sfruttare la tecnologia ovviamente che ci mette a disposizione una serie di opportunità per cui il paziente grazie a un'app o addirittura il sito web, quindi basta avere un accesso a internet, può mettersi in contatto appunto in qualsiasi momento col proprio medico e il medico ha una sorta di pannello di controllo, anche lì un client fondamentalmente per cui riesce a gestire anche volendo in tempo reale la risposta nei confronti del paziente, quindi il paziente si sente curato, ha dall'altra parte qualcuno che è in grado di rispondergli possibilmente nell'immediato e facilita anche la gestione dal punto di vista del medico, quindi è un vantaggio per tutti ovviamente. Quanto è importante anche per un paziente sapere di poter avere sempre un punto di riferimento nel momento di difficoltà? Sicuramente è fondamentale ed è stato uno degli aspetti che abbiamo cercato di curare al meglio. Il paziente sa di poter trovare dall'altra parte del sistema tecnologico il suo medico, come dicevamo prima, e quindi riuscire ad ottenere una risposta, diciamo che il problema è proprio riuscire ad ottenere una risposta perché sappiamo che normalmente vengono attivati i canali, diciamo tra virgolette standard, che possono essere il telefono e la mail, ma questo ovviamente va a incidere sulla disponibilità del medico, quindi se uso un canale sincrono come quello del telefono, la presupposta è che dall'altra parte ci sia il medico disponibile e sappiamo perfettamente che questo spesso non avviene. Attraverso i PM in realtà è il medico che riesce a gestire il suo tempo e quindi quando ha quella mezz'ora a dedicare ai suoi pazienti sa che entrando sui PM può dedicarsi totalmente e quindi attraverso tra l'altro alcuni servizi disponibili su i PM questo anche processo viene velocizzato. Il paziente poi fondamentalmente ha la possibilità di scaricarsi l'app che gira su iOS e sistemi Android, quindi smartphone e tablet o se diciamo tra virgolette meno digitalizzato basta avere un accesso a internet, quindi attraverso il computer di casa. Ecco, tecnicamente nel momento in cui si accede o all'app o al sito che cosa succede? Ma anche questo processo abbiamo cercato di ottimizzarlo, nel senso che quando la prima volta il paziente si presenta davanti al medico, il medico invita il paziente a partecipare a questo progetto e gli rilascia in temporale un codice. Attraverso questo semplice codice che può essere inviato al paziente via mail, stampato o scritto su una tesserina, il paziente inserisce questo codice nell'app e il gioco è fatto. Affiancare la ricerca per la messa a punto di terapie sempre più innovative e mirate con tutte le strategie che possono migliorare la qualità di vita dei pazienti è l'obiettivo di Roche che ha voluto affiancare DOT nella messa a punto di uno strumento semplice ed immediato che possa anche rappresentare un luogo di incontro digitale ma non per questo meno concreto fra chi sta combattendo la sua battaglia contro il cancro e l'oncologo che lo affianca nel suo percorso. La sfida che il trattamento dei tumori ci pone è duplice ed esattamente quella che lei ha citato. Da una parte la ricerca fa continui progressi, non ci accontentiamo di quello che otteniamo ma miriamo sempre ad individuare le risposte innovative a quelli che sono i bisogni medici ancora insoddisfatti e questo significa fare ricerca, trovare soluzioni innovative in termini di target terapeutici e capire qual è la prossima frontiera. Tuttavia la nostra responsabilità e anche l'impegno dei medici non si esaurisce nell'avere a disposizione delle opzioni terapeutiche innovative ma anche nel far sì che queste opzioni terapeutiche vengano utilizzate al meglio e da una parte associano l'efficacia e quindi il miglioramento degli outcome clinici con il miglioramento della qualità della vita da una parte e il miglioramento anche della compliance. Quindi la possibilità dei pazienti di avere terapie orali che possono prendere a domicilio è molto importante ma anche altrettanto importante il fatto che queste terapie vengono assunte in maniera adeguata con il giusto rispetto del dosaggio e contemporaneamente che si garantisca la sorveglianza degli eventi avversi perché spesso i pazienti possono non riferire gli eventi avversi, possono cercare di gestire autonomamente alcuni eventi avversi per cui garantire la sorveglianza delle terapie innovative è altrettanto importante. E credo anche importante possa migliorare l'alleanza terapeutica fra medico e paziente che annulla un po' quella distanza fisica. Certo e da medico personalmente questo l'ho sperimentato e penso sia un elemento molto importante. I percorsi terapeutici in alcuni ambiti sono estremamente impegnativi e le terapie più efficaci richiedono un commitment elevato da parte di chi le assume per cui rafforzare il patto di fiducia tra medico e paziente rappresenta un elemento pivotale per il successo delle terapie. E anche credo aver sfruttato la tecnologia in questo senso sia un passo in più sempre nella strada dell'innovazione. Penso che oggigiorno dobbiamo fare i patti col fatto che avere a disposizione degli strumenti innovativi quali la tecnologia, quali internet debba essere visto come un valore aggiunto è come un elemento che ci permette, permette a noi, permette alla classe medica di risolvere in maniera più efficace, più rapida alcuni temi, alcuni problemi e anche accorciare le distanze che non sono necessariamente quelle fisiche con i pazienti. Quindi individuare il modo migliore di utilizzare questi strumenti sicuramente rappresenta da una parte un'opportunità e da una parte anche una sfida per noi. Grazie a tutti.